C'è il Carpi e l'Isalde, è una partita molto importante perché dopo un periodo non positivo come inizio stagione, l'opportunità per rilanciarsi nelle zone altissime della classifica. Sì, è una partita molto importante perché siamo in un periodo brutto, come hai detto tu, e dobbiamo andare al campo domani e cercare di fare i tre punti. Non stai giocando in questo campionato ancora, ma Pilon ha detto per tutti arriverà una chance. Io però ti riporto le parole del Presidente Sebastiani che ha detto ad oggi l'unica operazione concreta di mercato è quella di Elisalde, perché Juve, soprattutto Inter, sono molto interessati al ragazzo. Sì, io mi sto allenando e cerco di fare il meglio e che arrivi un'opportunità, però quello che si parla lo stanno lavorando i miei procuratori e la società. Adesso mi sto allenando bene per giocare e finire bene l'anno, dopo andare in nazionale e fare bene. Juventus o Inter, che ti ha detto il tuo agente? Qual è più vicino? No, no, non ho parlato niente del mercato con i miei procuratori. Tu dove vorresti andare delle due? Tutte e due sono grandissime squadre d'Italia e del mondo. Non lo so. L'ultima ti chiedo, Pilon ti sta provando di più come difensore centrale o come tersino, come aveva detto a inizio stagione? No, no, sempre mi sto allenando, mi sta provando di tersino e tersino sinistro. Sì, centrale no. Grazie. Grazie.